Avrebbero cercato di saccheggiare l'hard discount di Ragusa la notte di Natale, ma grazie alla segnalazione dei titolari del supermercato sono stati colti in flagranza dopo 24 ore. A finire in manette sono il 61enne palermitano Gaetano Maggio, indicato dalla polizia come ladro professionista, e il figlio Alfonso, di 28 anni. Un'auto sospetta sarebbe stata notata nella notte tra il 25 e il 26, intorno alle 5 del mattino, mentre stava effettuando un giro di perlustrazione del supermercato. Dopo pochi secondi, hanno spiegato dalla polizia, gli agenti hanno sorpreso Maggio dirigersi verso la cassa. Il 61enne avrebbe dunque aperto il primo sportello, inserito la combinazione e poi ancora un'altra chiave nello sportello della cassaforte, prelevando poi un sacchetto sigillato con il denaro pari a circa 30.000 euro, per poi allontanarsi velocemente. Il ladro però è stato prontamente circondato dai poliziotti, messisi subito dopo in azione per individuare il figlio. Maggio, infatti, quando è stato fermato, era ancora al telefono con il 28enne, che doveva coprirgli le spalle. Quest'ultimo è stato fermato dopo un breve inseguimento. Entrambi possedevano guanti e materiale per il travisamento. Una pattuglia, recatasi nell'abitazione dei Maggio a San Giovanni Gemini, nell'Agrigentino, avrebbe inoltre scoperto un vero e proprio laboratorio per la falsificazione o la creazione ex novo di chiavi adulterine e di alcune micro videocamere, probabilmente utilizzate per filmare l'inserimento dei codici di sicurezza delle cassaforti da parte degli addetti ai prelievi per conto di un'agenzia di vigilanza. Grazie per la visione!